Ciao amici del canale, del mio canale, guardate qui c'è una cosa straordinaria che vi voglio mostrare. Allora, era mia mamma col fratello Marco, cioè mio zio, erano fotografati nella costiera che porta a Trieste, ma quando guardo la foto non scopro qualcosa qua sopra vicino alle rocce, guardate, al fianco di loro c'è una persona, non so se è un bambino, se è un giovane, che si sta rampicando sulla roccia, ma non mi ero accorto mica, ma adesso guardando la foto trovo questa straordinaria cosa. Allora, amici del Friuli, se qualcuno di voi si riconosce in quella impresa, me lo faccia sapere. Allora, era il 2004, qui nella costiera di Trieste, allora era il 2004, qui nella costiera di Trieste, fotografando il mio zio e la mia mamma, cosa vi trovo? Un ragazzo, un giovane, che si sta rampicando sulla murale di Lima, pericoloso, se cade, ripassavano le auto, le automobili. Vabbè, se qualcuno si riconosce, gli daremo il premio, un premio per la sua audace azione. Questo è tutto, io spero che mi sia stato chiaro. Ciao a tutti, da Enzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.